Attenzione, attenzione, da questo istante saranno attivate le onde di Shark Bay, per cui chi non fosse capace di nuotare o avesse paura è pregato di portarsi nella zona di sicurezza. Attention, please, from this moment the wave-fec are店 and is activated. Fabti, wait! We need to be there! attenzione attenzione ora sarà attivata la modalità si prega di rispettare le indicazioni del servizio di sicurezza Sì Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.